Ciao a tutte e benvenuti sul mio canale. Demir evade dal carcere. Uscendo di prigione, Ilmaz incontra Zuleyla con la suocera e lui vuole parlarne per chiarire, ma interviene Fekeli a fermarlo. Ilmaz, da libero, deciderà di allontanarsi da Musigan e aggiusterà la villetta vicino alla villa Yaman per restare vicino a Zuleyla. Unkar lo scopre e lo caccia. Gafur fa il pettegolo e racconta a Demir che Ilmaz si sta di nuovo avvicinando a Zuleyla. Ilmaz, infatti, si sta avvicinando a sua moglie. Lo Yaman non vuole più restare in carcere, essendo innocente, e vuole fuggire in Germania con la moglie e figlio, aiutato da Unkar, che gli farà preparare i documenti per fuggire e per salvare suo figlio. Demir sa che Ilmaz andrà a vivere nella villetta e ha paura di questo riavvicinamento con Zuleyla, che gli faccia perdere la moglie. Demir, a questo punto, decide di fuggire e si ferisce alla pancia per fuggire dal carcere. Anche in questo video scopriremo nuovi momenti della SOP che ci faranno innamorare ancora di più di Terra Amara, con incredibili colpi di scena fino agli ultimi istanti del video. Ma prima di iniziare volevo ricordarti di mettere un bel mi piace e se ti fa piacere iscrivetevi al canale per le prossime anticipazioni e spoiler. Ma detto questo, non perdiamoci in ulteriori chiacchiere. Siete curiosi di scoprire cosa succederà tra Ilmaz e Zuleyla? Allora seguitemi. Il momento tanto atteso da Ilmaz e Zuleyla è arrivato. Dopo essere stato in prigione, Ilmaz è stato finalmente scarcerato e l'unico suo desiderio che lo avvolge da tanto è di incontrare Zuleyla, la donna che ha sempre amato. Niente sembra possa fermarlo, neanche la presenza di Unkar accanto a lei. Finalmente Ilmaz è riuscito a vedere il volto della donna della sua vita di nuovo vicino a lui. Ma soprattutto il giovane freme perché ha qualcosa di importante da dirle. Ma proprio quando Ilmaz sta per aprirsi con Zuleyla, benché ci sia Unkar accanto, arriva Fekeli per fermarlo. La vita di Akaia sta per cambiare radicalmente. Infatti lui decide che dopo essere uscito di prigione prenderà una drastica decisione. Ci ha pensato molto. Ovvero quella di staccarsi completamente da sua moglie Mujigan per poter costruire finalmente la sua vita con Zuleyla e riavvicinarsi ancora a lei. Così Akaia inizia a ristrutturare la piccola villa che Demir ha bruciato, ossia la villa di Sermin vicino alla sua amata. Ad Ilmaz non importa quale sia il prezzo da pagare per poter vedere avverarsi il suo sogno. Tuttavia, Unkar non è d'accordo con questa sua decisione e quando viene a sapere delle sue intenzioni va da lui dicendogli di andarsene subito perché non vuole in alcun modo che Ilmaz resti vicino a Zuleyla, la moglie di suo figlio, e non vuole in nessun modo che la sua presenza possa complicare la vita di Demir. La situazione si fa sempre più intrigante e difficile. Quando Gafur riferisce a Demir che Ilmaz si sta avvicinando molto a sua moglie e infatti Demir viene sopraffatto dalla rabbia ed oltre a questo è determinato a non pagare per un crimine che lui assolutamente non ha commesso ma nello stesso tempo non vuole perdere la sua preziosa famiglia a causa del suo rivale. Così decide di evadere di prigione per mettere fine a tutto questo. Non può più aspettare ma come possiamo immaginare non sarà molto facile. Infatti il suo obiettivo è quello di fuggire in Germania con Zuleyla e per farlo ha bisogno di passaporti falsi. E chi può aiutarlo in questa impresa se non la diabolica Unkar che farebbe qualsiasi cosa per aiutare suo figlio? La matriarca infatti alla richiesta del figlio accetta di aiutarlo. Demir in queste puntate sarà profondamente preoccupato per il matrimonio e farà di tutto per impedire a Ilmaz di avvicinarsi a sua moglie. La paura di perdere Zuleyla lo avvolge e lo spinge a fare qualsiasi cosa per tenere la sua famiglia unita consapevole del fatto che se Ilmaz riesce a parlare con Zuleyla potrebbe portare la cosa a far finire il loro matrimonio. E questa cosa lo fa uggire in modo impulsivo ed irrazionale infatti Demir escogita un piano con la madre per poter evadere dalla prigione. Il giovane va in bagno e si infligge una ferita con un coltello proprio nell'addome. Così Demir viene subito soccorso e trasportato in ospedale dove verrà operato dalla dottoressa Mujigan. Nel frattempo in villa Unkar ha cambiato la serratura e Zuleyla a sua insaputa è bloccata dentro. Ma Zuleyla quando vede Ilmaz sul balcone decide di scendere per andare ad aprirgli e si accorge della misfatta di Unkar. A questo punto la povera Zuleyla ancora una volta non riesce ad avere un confronto con il suo tanto amato Ilmaz. Ma il giovane disperato chiede aiuto all'amica affidata Gulten per poter avere la possibilità di vedere Zuleyla. Così in un momento di sfogo Ilmaz confessa a Gulten di essere esausto e al limite della follia e che avrebbe tanto il desiderio di uccidere Demir e Unkar coloro che hanno messo i bastoni tra le ruote dell'amore tra Zuleyla ed Ilmaz. Ma Gulten con la sua dolcezza cerca di tranquillizzarlo confissandogli che Zuleyla ha sempre combattuto per il loro amore e che voleva a dirgli la verità già da molto tempo. Ilmaz, nonostante le parole dell'amica, è ancora molto preoccupato che non potranno mai avere una vita insieme e non riescono a parlarsi. Così Gulten gli promette di fare tutto il possibile per aiutarlo ad incontrare Zuleyla. La sera stessa infatti la ragazza contatta Zuleyla e organizza un incontro tra lei e Ilmaz così senza farsi notare da nessuno Gulten entra furtivamente nella stanza di Zuleyla e le comunica che Ilmaz la vuole incontrare. Zuleyla è felice della notizia ma anche preoccupata come potrebbe mai uscire dalla villa senza farsi scoprire da Unkar e Sannier che la tengono sotto stretta sorveglianza. Ma Gulten furba e determinato a fare in modo che i due possano finalmente avere il loro momento con coraggio e astuzia la domestica sottrae le chiavi della macchina dalle tasche di Gafur il fratello. Poi si infligge delle schegge al piede per attirare l'attenzione di tutti dando modo a Zuleyla di poter uscire. Zuleyla è elettricizzata dall'idea di incontrare Ilmaz dopo tanto tempo ma allo stesso tempo preoccupata così chiede a Gulten di prendersi cura di Anna nel caso in cui le cose dovessero andare storte. Finalmente il momento è arrivato e i due si ritrovano l'uno di fronte all'altro. Le emozioni le lacrime la gioia fanno da sfondo. Ilmaz coglie l'occasione per esternare il suo amore e per farle sapere che si sa tutta la verità finalmente e inoltre si scusa perché ha dubitato del suo amore. I due vengono avvolti dal sentimento che li unisce ma mentre stanno per baciarsi inaspettatamente arriva Demir fuggito dal carcere che si avvicina violentemente alla coppia Ilmaz decide di affrontarlo ma Demir afferra Zuleyla e la trascina vicino a sé ma Ilmaz non ha intenzione di fermarsi questa volta e l'affronto continua così Demir sempre più furioso lo minaccia con una pistola Zuleyla non esita a mettersi in mezzo tra i due per salvare ancora una volta Ilmaz ed è qui che Demir minaccerà la moglie di non fargli più vedere il piccolo Ald nel caso in cui lei decidesse di andare via con il suo rivale nel frattempo Demir fa notare che c'è Unkar che sta scendendo dall'auto con in braccio il suo bambino come da dire vedi quello non lo rivedrai più quello che Ilmaz non sa ancora in questo momento è che Adan è suo figlio così Zuleyla per evitare complicazioni lasciando il cuore attaccato di Ilmaz decide di tornare da Demir Adan e Unkar in villa le anticipazioni sono terminate queste puntate vi terranno senza dubbio attaccate allo schermo continuate a seguirci ma iscrivetevi al canale e lasciatemi un vostro like al prossimo video